La democrazia non esiste? Pier Giorgio Di Freddi, Amartya Sen, Vilfredo Pareto e altri. Ecco, questo è l'argomento da cui voglio partire. La democrazia esiste però, esiste, ma è comunque un duro momento per essere democratici o essere una democrazia. Quella democrazia che fino a qualche anno fa sembrava un'onda inarrestabile, di fronte al crollo dell'unica alternativa esistente, ovvero il socialismo realizzato. Oggi, invece, la democrazia sembra aver arrestato o addirittura invertito il proprio costante moto di crescita e si trova in un visibile regresso, con forze illiberali che si insinuano nelle democrazie di più lunga storia, minandone non solo le istituzioni, le istituzioni formali, ma soprattutto l'intima sostanza. Libertà di espressione, prima di tutto, e conquista di sempre nuovi diritti. Perché, in fondo, è anche questo la democrazia, l'espansione costante dei diritti da un passato in cui i diritti erano una cosa molto più limitata. Da un punto di vista meramente osservazionale, le cose sembrano andare proprio in questa direzione. Ormai, quasi un paio di anni fa, ho fatto un video sul Democracy Index, rapporto curato dall'intelligence dell'economist sullo stato della democrazia nel mondo. Dovrò al più presto fare un video di aggiornamento sul Democracy Index, perché immagino che le cose da allora si siano fatti veramente molto più interessanti. In questo scenario di indebolimento della democrazia a livello mondiale, nell'Occidente democratico si sta affermando una vasta falange di detrattori di questo stesso sistema occidentale che qualcuno chiama liberale, qualcuno democratico, ma che in definitiva non è che liberal democratico, una inscindibile unione tra libertà di dire e di fare, diritti evoluti e generalizzati e solo infine rappresentanza, ma chiamiamola comunque democrazia per far prima. Quindi ci sono varie e numerosissime specie di antidemocratici, molte se non tutte strisciate fuori dal fango e dall'ombra passendosi delle tante delusioni patite dai popoli occidentali negli ultimi anni. Era perfino stato previsto, per quanto possa valere una previsione, e non vale mai molto. Hobsbaum, per citare uno dei migliori tra noi, il compianto Hobsbaum, aveva avvertito che l'epoca d'oro del capitalismo era ormai finita e che i frutti avvenenati della democrazia stessa e delle sue inseparabili libertà, prima di tutto quella di parola, sarebbero maturati in una miriade di movimenti devoti a minare quello stesso habitat liberale che ne ha consentito la crescita. Tra gli altri ci sono gli stessi di sempre, movimenti che antidemocratici e liberali lo sono geneticamente, come quelli oggi al governo in Italia e da molto tempo in Ungheria ormai, e sempre più forti in Europa, di radice variamente fascisteggiante, ma non sempre schiettamente fascista. I liberali e desiderosi di controllare i diritti individuali delle persone, tutti indistintamente e profondamente razzisti, che il nemico sia islamico, slavo, ebraico o marziano. Ci sono molte sfumature. In Italia ne abbiamo anche qualcuna di quasi originale, cresciuta nell'ambiente post- e anti-illuminista dell'Accademia Italiana. Tra questi, i più domestici, sono gli anti-americani viscerali che si strapperebbero le palle dagli occhi, pur di far dispetto al pernicioso e ingombrante Yankee Doodle. E li voglio chiamare, forse capirete a breve perché, gli anti-occidentali. Buffo che essere anti passi oggi per un posizionamento intellettuale tanto sexy alla moda. Di questa categoria degli anti-occidentali fa parte l'autore del libro da cui voglio partire in questa mia elucubrazione. La democrazia non esiste. Senza punto interrogativo. Di Fia Giorgio o di Freddi? Ho tanta simpatia per il professore di Freddi, come ho tantissime riserve sul suo libro. Delle mie critiche specifiche cercherò di parlare in fondo a questo ragionamento, se non mi sarò troppo dilungato. Il libro, che tra l'altro si sottotitola Critica matematica della ragione politica, addirittura. Mi serve come linea guida per esplorare i contributi che sul concetto di democrazia hanno portato i grandi intellettuali che ho di Freddi, tra l'altro cita e usa per argomentare in questo testo. Al di là delle argomentazioni del libro, la sua parte più succosa e interessante è verso la fine, dove in qualche modo entrano nella discussione, o anche meglio invettiva, le riflessioni e persino le testimonianze di alcuni illustri personaggi. Il filosofo ed economista Mark Hassen e Kenneth Harrow, anche lui economista per primi. Si tratta di due premi Nobel. Alle spalle di questi, piuttosto svettante, non intervistabile per motivi anagrafici, il pensatore, economista, ingegnere, caustica penna italica, Vilfredo Pareto, che curiosamente, o magari anche non tanto curiosamente, come vedremo compare, il minimo indispensabile. Ah, e poi sullo sfondo c'è pure un altro matematico, il Marchese di Condorcet. Ecco, i pezzi sono sulla scacchiera. Si tratta di pensatori pochissimo conosciuti, diciamocelo dal pubblico italiano, e questo è triste, davvero triste, data la loro importanza in moltissimi settori diversi. Qui ve li presento in gruppo perché sono fortemente collegati tra loro per le diverse riflessioni sul tema democrazia, ognuno dalla sua peculiare prospettiva e in ragione del suo tempo. Sono assolutamente consapevole di non poter nemmeno scalfire la superficie di anche solo uno di questi pensatori, figuriamoci mettendoli tutti insieme, e sono anche consapevole che dedicare un unico contenuto a tutti questi autori sia una capriola quanto meno pericolosa. Trovo però necessaria una risposta quanto più intelligente mi riesca a dare al professore Odifreddi e al suo tossico libro, ma ci torneremo. Diciamo che, come sempre, per non perdermi in un meandro di elucubrazione, mi farò guidare dai loro libri, oltre che da quello di Odifreddi, e come sempre, riflettendo su di essi ad alta voce, ve ne parlerò. In definitiva, questo video funge nelle intenzioni un po' da introduzione a un percorso di letture condivise con voi sull'argomento la democrazia e le sue crisi. E spero di avere poi la forza e la costanza di raccontarmi in seguito e in modo più dettagliato le opere di questi pensatori che per me sono stati tra le più importanti su questo argomento, nel mio onnivoro percorso intellettuale. Partiamo da Pareto. Come dicevo prima, eclettico all'inverosimile, mi verrebbe da dire polimata alla Tagore, per quanto distanti siano le due figure. Non deve sorprendere troppo che spunti fuori pure Tagore in questi miei pensieri, ma davvero qui rischio di perdervi in un vero meandro. Forse a nessuno sano di mente verrebbe, in mente, di fare un collegamento tra Pareto e Tagore, benché siano vissuti nella stessa epoca, ma a un pianeta di distanza. Sta di fatto che in un altro degli autori di cui voglio parlare, Amarti a Sen, c'è un interessante intreccio di influenze tra i due, mentre Tagore ha influenzato direttamente la formazione umanistica di Sen, tanto che fu addirittura lui a battezzarlo Amartya, l'immortale. Pareto, d'altra parte, gli ha fornito strumenti analitici importanti per le sue riflessioni economiche e politiche. Sen rappresenta, quindi, un punto di convergenza tra le visioni umanistiche e scientifiche di questi due grandi e diversissimi personaggi. Ma, come al solito, divago. Tornando a Pareto, i cui contributi spuntano fuori ovunque nei testi, che spazzano dall'economia alla scienza militare, dalla sociologia alla pedagogia sperimentale, alla teoria dei giochi, dovrebbe essere, per il suo semplice essere un italiano, una figura per cui il nostro paese celebra ricorrenze e commemore conseguimenti. Ma non è affatto così. Come mai? Innanzitutto, va considerato il legame di Pareto con il fascismo. Sebbene complesso e non lineare, questo rapporto ha contribuito certamente a una certa reticenza nel celebrare apertamente la sua figura. In più, e particolarmente nell'opera che ho adesso in mente, Trasformazione della democrazia, le sue idee, percepite come elitiste, e non a caso, dato che Pareto è parte fondamentale dei cosiddetti elitisti, e certamente antidemocratiche e antisocialiste, lo rendono poco digeribile, anche a tanto tempo di distanza, agli ambienti accademici italiani, così fortemente e rigidamente ideologizzati. E' certo che, mentre Mussolini gli faceva una trepida corte per tirarlo dentro e conquistare così una qualche investitura culturale, tramite la potenza di questo grande intellettuale, lui tentennava. La morte evitò a Pareto di cadere nelle braccia del regime, e il busce si dovette invece accontentare del povero gentile. Il risultato è che Pareto è celebrato e studiato all'estero, dove alle sue opere, economiche e sociologiche, è riconosciuto un notevole impatto sulle teorie contemporanee, molto meno in Italia. Insomma, mister Wilfredo sarebbe stato d'accordo sui generici presupposti ideologici dell'opera di Odifreddi, ma non credo che ne avrebbe condiviso il metodo e lo sviluppo. La trasformazione della democrazia non è una delle opere fondamentali di Pareto, è una raccolta di quattro articoli pubblicati nel 1920 e un appendice scritta nello stesso anno. Dunque ci troviamo tra la fondazione dei facci da combattimento e la marcia sul Roma. Siamo nel pieno degli scontri tra neri e rossi e il governo liberale appare inerme e incapace di governare. Pareto attacca la democrazia giolittiana sostanzialmente per la sua debolezza e per l'essere una maschera della plutocrazia. Parla di una borghesia imbelle, imbecille, degenere al pari di tutte le élite in decadenza. Questo dice Pareto. Ci sono molte cose davvero gustose nel libro, come per esempio il parallelismo apparentemente perfetto tra i sindacalisti di inizio novecento e gli immunisti medioevali. Il paragone è ovviamente funzionale a creare un parallelo parallelismo tra la disgregazione del regime centralistico carolingio e la decadenza dello Stato borghese, investito dal dilagare dei comportamenti delittuosi dei rossi che occupano le fabbriche, uccidono poveri sbirri e così. E si invoca il bastone, evidentemente a quel tempo rivestito di nero. Ma afferma nello stesso testo anche, Pareto, che i governi volgenti all'assolutismo si indeboliscono e agli uomini politici è ben nota l'utilità di un'opposizione per dare forza al governo. Quindi un libro controverso su cui magari torneremo in un altro video. Sicuramente tornerò su opere più rilevanti di Pareto. Ma andiamo avanti per non perderci. E a partire da alcuni concetti paritiani, in particolare l'efficienza paritiana che Arrow e Senna hanno sviluppato, le loro riflessioni, i lavori che hanno fruttato da entrambi, tra gli altri, il Nobel per l'economia. Nella parte conclusiva del suo libro, l'unica intellettualmente un po' polposa, Odi Freddi cita alcune testimonianze dirette di personalità assai note e raccolte da lui stesso. Sorvolerò sulle opinioni dei due più faustiani politici italiani di tutti i tempi, Andreotti e Cossiga, e mi concentrerò invece sulle vive parole da lui riferite, sia di Arrow sia di Senna. D'altra parte, non è da poco che Odi Freddi calca la scena. Il fatto è che le parole dei due grandi economisti che il professore riporta, e ne ho avuto la fortissima sensazione, soprattutto nel caso di Senna, sembrano entrambi cortesemente, ma nettamente in disaccordo sulle premesse delle domande che lui gli pone. Ma allora perché li cita? Mi sono chiesto. Il motivo non è semplicissimo da riferire, ma cercherò di riassumerlo e approfitterò di questo gancio, di questa scusa, per parlarvi di qualche libro davvero interessante. Dunque, tutto inizia con un altro matematico, il Marchese di Condorcet. E' quello che è stato poi chiamato Paradosso di Condorcet, o Paradosso del Voto, che deriva dal suo lavoro del 1785, saggio sull'applicazione dell'analisi alla probabilità delle decisioni prese a maggioranza. Purtroppo, tanto per cambiare, quest'opera non mi pare sia in catalogo in Italia. Dovrò presto fare un video sull'editoria italiana e le sue molte mancanze, ma questa è un'altra storia. Comunque, l'enunciato del Paradosso, in estrema sintesi, afferma che in una votazione a maggioranza, con tre o più opzioni, le preferenze collettive possono diventare cicliche, non transitive, anche se le preferenze individuali sono transitive. Ma che vuol dire? Significa che per alcune configurazioni di preferenze individuali si origina un ciclo senza una chiara opzione vincente. O, in parole povere, il Paradosso pone difficoltà di principio nella progettazione dei sistemi elettorali e sulla teoria della democrazia. Ora, Condorcet era un convintissimo democratico, propose vari metodi per ovviare al paradosso che porta il suo nome e migliorare così la capacità dei processi elettorali di risolvere i rischi di stallo, sacrificando parte della rappresentatività e dell'equità delle votazioni. La cosa è ovviamente più complicata di così, ma passiamo oltre per il momento. Vi invito per un po', quindi, a trattenere il piatto. Cercherò di affrontare in poche frasi concetti su cui sono stati scritti volumi su volumi. Per arrivare al punto, vi chiedo scusa. Pronti? Andiamo, trattenete il piatto. Il passo successivo è la riflessione sul principio di unanimità di Pareto. Detto anche criterio di Pareto ottimo paretiano, in estrema sintesi questo principio o criterio ottimo sostiene che una situazione è ottimale quando nessun cambiamento può aumentare il benessere di una persona senza diminuire quello di un'altra. Aumenta il benessere di una persona senza che ciò danneggi il benessere di un'altra persona. Sembra semplice, no, non è così. Dopo arriva Arrow che enuncia il teorema dell'impossibilità di Arrow e sostiene non esistere, non esistere in linea di principio un sistema di votazione che possa trasformare le preferenze individuali in una classifica collettiva che soddisfi contemporaneamente i seguenti cinque criteri. Universalità, non dittatorialità, efficienza paretiana di cui parlavamo prima, indipendenza delle alternative e coerenza o transitività. Non è chiaro? Lo so. Stoppate il video, riprendete il fiato e andate a leggervi la pagina Wikipedia che ne parla, il link è in descrizione. Infine arriva Senna che enuncia un altro teorema, il teorema dell'impossibilità liberale di Senna. Sembra che stiamo andando in una direzione interessante, riprendiamo? La democrazia, ricordiamoci, la democrazia esiste. Teorema dell'impossibilità liberale di Senna. Senna dimostra che è impossibile creare un sistema di scelta sociale che soddisfi contemporaneamente i seguenti tre criteri. Principio di Pareto, eccoci, libertà individuale e coerenza o transitività. Ricapitolando, e lo so che siamo in mezzo a delle questioni un po' spinose, il teorema di Senna collega il principio di unanimità di Pareto e il teorema di Arrow evidenziando un ulteriore paradosso nella scelta sociale. Mentre il principio di Pareto e il teorema di Arrow mostrano i limiti dell'efficienza e della coerenza nelle preferenze collettive, il teorema di Senna aggiunge la dimensione della libertà individuale mostrando che non è possibile conciliare completamente efficienza, equità e libertà individuale in un sistema di scelta sociale. Ecco, ovvio, adesso respirate. Chiedo scusa per questa estrema semplificazione, ma avevo bisogno di questi mattoncini per portare avanti la mia argomentazione e so bene quanto è censurabile la disinvolta sintesi che vi ho portato, non me ne frega niente. a prima vista sembra quindi che Senna spalleggi il punto di vista degli antidemocratici, di tutte le risme, anche quello di Odi Fritti. Ma vedete, Amartya Sen, al contrario, è un uomo profondamente legato all'idea di democrazia e di libertà. Nei suoi lavori sostiene e motiva come la libertà porti lo sviluppo e non ci sia benessere e giustizia senza democrazia. E questo è il cuore del suo lavoro e della sua riflessione filosofica oltre che economica. Per esempio in sviluppo e libertà perché non c'è crescita senza democrazia propone una visione del mondo in cui lo sviluppo è strettamente legato all'espansione delle libertà umane. In questo lavoro come in altri Sen sottolinea l'importanza della democrazia, della giustizia sociale e dell'equità come pilastri fondamentali di uno sviluppo che sia veramente umano e sostenibile. Oppure, prendendo un'altra opera di Sen Etica ed Economia incita a una riflessione sulla necessità di reintegrare le considerazioni etiche nell'analisi economica. Sen argomenta che l'economia deve essere vista come una disciplina che non solo si occupa di efficienza e non solo efficienza paretiana e della crescita ma anche del benessere umano della giustizia e dell'equità. In questo si vede il limite di un atteggiamento paretiano. Il mondo non è schematizzabile con dei teoremi come lo sono le sue rappresentazioni per quanto utili e strumentali. È un po' lo stesso meccanismo delle previsioni di Malthus ma no scusate tranquilli qui non parliamo di Malthus. Proprio per evitare di parlare della trappola Malthusiana che però magari andatevi a cercare eccovi la famosa almeno tra i fisici battuta sulle mucche sferiche. La conoscete? Magari conoscete la versione delle galline sferiche che viene usata nella serie Big Betty no? Qui non ve la ripeto ma posso riassumervi l'idea in due parole perché ci dice una cosa vera e sacrosanta che è sempre importante tenere in considerazione quando vuoi risolvere un problema reale usando la sola astrazione teorica rimarrai invariabilmente e profondamente deluso e un po' come fa Odifreddi si useranno dei ragionamenti fuori del loro contesto di applicabilità per meri fini argomentativi per cercare di dimostrare matematicamente ciò che non può essere dimostrato e in questo Seine è campione di matematica ma anche di etica e di visione trasversale ed è per questo che trovo che sia una personalità da tenere sempre ben presente quando si ragiona di democrazia di economia di diritti e di coscienza pulita una delle opere di Seine più semplici e immediatamente utili che è proprio quella che mi ha avvicinato a lui nel corso delle mie ricerche sugli universali culturali è La democrazia degli altri raccolta di un saggio dal titolo Le radici globali della democrazia e del testo di un suo discorso del 99 intitolato La democrazia come valore universale per inciso ho parlato più in generale del concetto di universale culturale nel mio video Il relativismo ed universali culturali che spero mi frutterà molti futuri contenuti a partire da questo In questo contesto ci dobbiamo porre l'interrogativo se nella categoria degli universali culturali possa trovare posto anche la democrazia in quanto aspirazione dei popoli a vivere in libertà e giustizia Il punto di vista da cui parte Seine è antitetico a quello di Odi Freddi Se nel libro del matematico italiano ci si concentra esclusivamente in modo a quanto pedisseco sulle liturgie e sui meccanismi della rappresentanza Seine si concentra su ciò che rende una democrazia contemporanea una vera democrazia e non una democratura Non gli elezioni e gli apparati ma il libero dibattito la libertà di ognuno di esprimere la propria opinione senza temere per la sua vita per la sua libertà per il suo buon nome e per la sua capacità di guadagnarsi da vivere Ogni democrazia è incompiuta non perché sia impossibile disegnare un collegio elettorale senza fiombare inevitabilmente nella dittatura come sostiene Odifreddi ma perché la libertà di dibattito è limitata sotto molti aspetti sta a noi proteggerla e promuoverla Sen sottolinea più volte come l'idea dei cosiddetti valori asiatici contrapposti a quelli dell'Occidente democratico sia sostanzialmente propagata tramite la propaganda dei regimi autoritari di quell'area con la connivenza del movimento anti-occidentale chiamiamolo così che allinea in occidente e soprattutto in Europa ciò che è evidente e come ci mostra Sen l'affermazione dell'aspirazione democratica non è né nuova né antica né esclusiva dell'occidente né sconosciuta in Asia ma è un'aspirazione fondamentale dell'uomo l'idea democratica nella sua accezione più ampia non è esclusivamente un prodotto dell'occidente perché in altri e molti distanti ambiti culturali diversi da quello nato dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese si sono mostrati inclini a ricercare quelli istituzionali e culturali che garantissero libertà e diritto in questo mi verrebbe da citare il filosofo ganese quasi viredu di cui ho già parlato nel citato video sugli universali culturali sia in Sen sia in viredu c'è una forte esigenza di rivendicare alle culture a cui appartengono indiana ed africana bisogni e anche eredità culturali che hanno preconizzato e anticipato le visioni e i bisogni che le democrazie liberali europee hanno fatto divenire effettivamente forme di convivenza e di governo la democrazia come dicevo non è affatto antica nel senso che dalla sua nascita ha subito grandi battute di arresto e schiaffi portentosi visto che fino a poco tempo fa in Italia in Germania e in altri paesi dell'attuale mondo occidentale fiorivano regimi ed ideologie per i quali democratico era un termine deteriore in realtà Pareto era in certo modo un araldo di questo atteggiamento siamo figli del fascismo e di conseguenza del nazismo il più grande male che il mondo abbia mai visto gli eredi più o meno inconsapevoli di queste ideologie raffazzonate e mostruose come il professore Di Freddi e gli antioccidentali parzuoli con il loro strisciante gusto per regimi totalitari e tutta la marea montante i movimenti di stampo suprematista neofascista e neonazista si abbevano proprio a quell'idea la democrazia non è un valore tantomeno un valore universale su questo presupposto ideologico abbiamo un succosissimo documento la voce fascismo dell'enciclopedia italiana Treccani firmata da Mussolini insieme a Gentile che dice e cito e perciò il fascismo è contro la democrazia che ragguaglia il popolo al maggior numero abbassandolo a livello dei più ma è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito come deve essere qualitativamente e non quantitativamente come l'idea più potente perché più morale più coerente più vera che nel popolo si attua vale coscienza e volontà di pochi anzi di uno a quale ideale tende ad attuarsi nella coscienza e volontà di tutti di tutti coloro che dalla natura e dalla storia etnicamente traggono ragione di formare una nazione avviati sopra la stessa linea di sviluppo e formazione spirituale come una coscienza e una volontà sola non razza né regione geograficamente individuata ma schiatta storicamente perpetuantesi moltitudine unificata da un'idea che è volontà di esistenza e di potenza coscienza di sé personalità ecco Gentile ha sicuramente ben faticato per mettere un po' di coerenza in questo mucchio di frasi roboanti e prive di senso il fascismo è contro la democrazia ma è alta forma di democrazia in questo stesso testo si dà anche vita a una fortunata accezione del termine totalitario cito il fascismo è totalitario e lo stato fascista sintesi e unità di ogni valore interpreta sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo né individui fuori dallo stato né gruppi qui si parla in realtà più del nazismo che del fascismo come sappiamo il fascismo doveva fare i conti con la chiesa con la fiat con il re era totalitario ben poco il fascismo il nazismo è un'altra cosa bene mi pare chiaro so che Odifreddi negherebbe accuratamente la sua vicinanza a queste idee ma è lì che ci porta il suo ragionare è evidente è interessante come gli antidemocratici antioccidentali di stampo non fascistoide non si rendano conto che il loro scatenarsi in modo viscerale contro le istituzioni che proteggono il loro diritto di dire ciò che vogliono sia un modo perfetto per dare più influenza alle forze che li metterebbero immediatamente a tacere appena salite al potere l'avanzata delle forze fascistoidi che oggi sta investendo le nostre vite con l'insaziabile bisogno di liberalità e regime che viene dietro non li spaventa e questo la dice lunga sulla loro scarsa lungimiranza ecco dopo questa rapida escursione nel pensiero di alcuni intellettuali di rilevo le cui opere dovrebbero essere sempre presenti e che hanno un ruolo importante nell'interpretazione dell'argomento di cui parliamo torniamo al libro di Odifreddi dunque che dire ho trovato la democrazia non esiste priva di equilibrio e anche di prospettiva comparativa saccente pessimistico veramente degno di una prosa adolescenziale i vari capitoli monografici sono in realtà un collage di affermazioni che saltano senza ordine senza condurre a niente altro che non sia la tesi del titolo del libro senza nessuna struttura dubitativa o un'argomentazione comparativa e con un procedere veramente confuso dove il Settecento l'antica Grecia la contemporaneità si imprecciano e si confondono in un susseguirsi di affermazioni scollegate piuttosto randomiche il problema vero però è la strana e probabilmente volontaria incomprensione o peggio mistificazione di quale siano le fondamenta dello Stato democratico al di là delle sue liturgie elettorali e rappresentative su cui ci si concentra in modo ossessivo come ho detto ho una gran simpatia umana però di Freddi pur con tutte le riserve possibili sulla sua rilevanza come matematico e sulla sua lucidità come divulgatore ma questa simpatia non può impedire di evidenziare ciò che mi ha immediatamente infastidito di questo libro critica matematica della ragione politica oltre ad essere davvero vanesio come sottotitolo è un'affermazione del tutto priva di fondamento perché la matematica nel libro è praticamente assente tranne dove si parla di ciò che vi ho già raccontato dei teoremi di Arrow e di Seth vorrei credere e spero che una simile dividente millanteria sia il parto di qualche zelante editor della casa editrice Rizzoli sarebbe il classico contributo di certi fraticelli minori di quelli che si annidano nelle cellette oscure delle grandi cattedrali dell'editoria italiana non parliamo poi della foto di controcupertina anche se così fosse comunque il sottotitolo è passato il nostro professore fa uso più o meno per scelta più o meno consapevolmente di uno dei più basilari trucchi di manipolazione dell'opinione pubblica e ricorso a un preteso infondato principio di autorità tra l'altro con la solita traslazione da un campo di sapere a un altro come se essere matematico più o meno di fama più o meno titolato potesse fornire per sé autorità su qualcosa come l'analisi politica sembra che non guasti mai ribadire anche se ciò dovrebbe appartenere oggi al campo delle banali ovvietà che nel sapere contemporaneo scientifico e non essere un matematico non dà autorità nemmeno nel campo della matematica tantomeno quindi in campi di niente o pochissimo hanno a che fare con la branca in cui uno si è preso dei titoli accademici il motivo è che l'autorità l'autorità badate bene non l'autorevolezza è un mito vuoto risalente a tempi meno illuminati in cui i parrucconi consideravano come un valido argomentare il semplice citare gente morta da secoli e i loro libri oggi chi segue un'autorità un'autorità di qualsiasi genere in modo cieco altro non è che uno sciocco che sta dietro a un presuntoso e non un membro sano e produttivo della specie ciò che conta nel pensiero nella scienza è in tutto quanto non è chi sei o quello che hai fatto o conseguito ma ciò che sostieni e come lo supporti tramite ragionamenti prove e dati le vere opinioni di uno valgono quelle di chiunque altro non c'è cattedra o nobel che tenga prima di tutto perché uno dei fondamenti del vivere democratico è che ognuno possa esprimere liberamente le proprie opinioni senza temere rappresaglie se no essi stampo poliziesco attuate tramite aggressione fisico-verbale da parte di neomoralisti pacifinti o di accento accademici attenzione però quello che sto dicendo è che sottoscrivo non significa certo che tutte le opinioni si equivalgano ovviamente chi dedica la vita a una disciplina è assolutamente più autorevole del primo scappato di casa con un braccio di plastica ricordiamoci autorevolezza non è autorità comunque vada le affermazioni di chiunque devono leggere al valio di una critica razionale è basata sulla logica e studiati empirici nell'ambito più squisitamente tecnico e scientifico e significa anche che quando le materie travalicano i loro confini come ormai inevitabilmente accade a ogni tecnica e a ogni scienza in questo nostro tempo gli esempi sono infiniti dalla virologia all'intelligenza artificiale insomma quando una tecnologia travalica i propri confini e impatta su altri molto più vasti aspetti della conoscenza e della vita umana tutto ciò deve anche saper reggere a un dibattito basato su argomentazioni filosofiche etiche politiche insomma quando una scienza o una tecnologia comincia a riguardare tutti tutti hanno il diritto di esprimere un loro parere informato ci si augurerebbe ma comunque il diritto sussiste anche se si tratta di microbiologia o di fisica nucleare tutto questo vuol dire semplicemente che una teoria o anche un'opinione può essere condivisibile o meno supportabile o meno a prescindere da chi la esprime solo in base alla logica e ai fatti che la supportano e la avvalano e l'opinione più degna di fiducia è sempre quella corroborata da qualche decina o meglio ancora da centinaia di articoli scientifici in revisione paritaria se applicabili detto ciò ho incidentalmente argomentato la mia titolarità ad esprimere tutte le opinioni precedenti basata su quello che ho letto nel libro di Odifredda il ruolo di un divulgatore è questo come poi tornerò a sostenere altrove fungere da collettore delle conoscenze nel limite della sua capacità ed esprimerli in contenuti che possono essere fruibili ai più ci si prova intendiamoci non voglio sconsigliare di leggere il libro di Odifredda perché ogni voce porta il suo contributo per quanto possa considerare pernicioso il suo atteggiamento il suo punto di vista ho qui portato un ragionamento che riconosco alquanto contorto trascinandovi in un mio pensare in tempo reale nutrito da questi libri e dall'influenza di questi e di altri autori voglio quindi chiudere questo lungo lunghissimo immagine a questo punto video anche confondente video tornando però al senso del lavoro di Sene in generale trovo il suo atteggiamento fecondo e pieno di spunti potenti per riprendere il controllo di ciò che ci sta accadendo come società democratica la democrazia è l'unico habitat dove la personalità umana può svilupparsi davvero e dove è possibile il vero progresso perché è la libertà di esprimersi di pensare di collaborare di imprendere di lavorare per sé e per i propri figli che porta le persone a impegnarsi a ideare a innovare e a raggiungere risultati davvero innovativi la libertà e la democrazia oltre a essere un ambiente sicuro dove ci si può dedicare in libertà alle proprie ispirazioni è anche dissonanza il costante contrasto il caos temperato dalla dialettica è l'unica condizione per la mutazione e la nascita del nuovo quindi soffermarsi ghignando a mostrare la democrazia ignuda di questi tempi e similmente a quel che accadeva ai tempi di Pareto per quanto quella democrazia fosse molto diversa da quella contemporanea riducendo il vivere democratico all'atto elettorale all'impalcatura istituzionale non solo è riduttivo ma non tiene in considerazione ciò che rende davvero potente e superiore il sistema democratico il suo essere un metodo ma anche un suo strato dove le idee individuali vanno a costituirsi in un insieme organico che qualcuno chiama progresso ma che dovremmo invece chiamare lotta per migliorare la condizione umana bene un saluto e invece no voglio premiare chi è arrivato fin qui con un piccolo uovo pasquale eccovi quindi il dottor Hofstetter e le galline sferiche ora davvero un saluto ecco fatto hai ragione da questo lato è migliore no non ho detto migliore ho detto meno macchiata già ho controllato la sala ci sono almeno 20 25 persone dentro stai scherzando? soltanto? soltanto nella fisica particellare è una cosa tipo Woodstock ah allora va bene non mi aspettavo così tanta folla sono nervoso quello comincia con una barzelletta andrà tutto bene una barzelletta ok sentite questa ecco c'è un contadino che ha un allevamento di galline che però non fanno nemmeno un uovo quindi chiama un fisico perché lo aiuti il fisico si mette a fare i suoi calcoli e alla fine dice ho una soluzione però funziona solo con delle galline sferiche in ambiente sotto vuoto mi dispiace io la conoscevo già andiamo ok che bel vestito il taglio classico giusto? sì sarei dovuta venire con la mia macchina grazie a tutti grazie a tutti